Non è facile credere in quel che non si vede. Ma ci si può affidare a quel che si conosce. Come la conoscenza di chi ogni giorno vede il cancro da vicino. Che dà coraggio a chi si sta curando. E ci fa guardare al futuro in modo diverso. Quella conoscenza ci dice che la prevenzione è fondamentale. Anche se a volte costa fatica. Non c'è conoscenza senza ricerca. E la ricerca non è solo un microscopio. La ricerca sono loro. Sei tu. Siamo noi. Noi che ci crediamo. Perché per rendere il cancro sempre più curabile... La ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.